Il documento presentato dal Governo è un documento completo che si articola in molti capitoli, tutti rilevanti per la ripresa economica nel Paese. Importante che siano immaginate contestualmente misure di politica economica e interventi di riforma strutturale del Paese. Quindi sicuramente il metodo è un metodo positivo, così come positivo che il finanziamento delle misure di politica economica immaginate venga fatto attraverso tagli alla spesa pubblica. La Spain Review forse è l'elemento più rilevante di questo esercizio economico perché se è fatta a regime porterà non soltanto ad un risparmio per le pubbliche amministrazioni ma anche ad una riorganizzazione dei processi e quindi a un miglioramento nell'erogazione dei servizi pubblici.